È apparso in circa 40 film tra cui 12 musicarelli tra il 1957 e il 1978. Per la televisione ha partecipato a diverse miniserie televisive. Biblioteca di Studio 1, 1964, Episodio I tre Moschettieri, Zabum, 1964, Scaramouche, 1965, Oliver Cromwell. Ritratto di un dittatore, 1969, Nero Wolf, 1971, Episodio Salsicce, Mezzanotte, Le inchieste del commissario Maigret, 1972, Episodio Maigret in pensione, Il commissario De Vincenzi, 1974, Episodio L'albergo delle tre rose. Don Giovanni in Sicilia, 1977, Il furto della Gioconda, 1978, Tecnica di un colpo di stato. La marcia su Roma, 1978.